Miranda, lei mi sta dicendo che prende appuntamenti con sconosciuti vi accompagna alla stazione vi salutate e si fa pagare 10 euro per tutto questo ho capito bene? esatto pagano la compagnia è come avere una badante una babysitter una prostituta quando non se ne stessi ti è ramasta è gente come ti ma che sta dicendo? davvero lo vuole sapere? no giovanotto a noi tu ce devi di solo una cosa che ci faceva la marijuana dentro la borsa di un'altra hai vinto strozzo? se c'è qualche problema mi chiamate subito sei innamorato? c'è un ragazzo che fa la mia stessa cosa accompagna persone alla stazione ti pago anche per sentirmi dire qualcosa mi chiamo Rocco Miranda e se mi trovo in questa situazione è perché accompagno sconosciuti alla stazione gente sola gente che non ha nessuno da salutare nessuno da lasciare nessuno da cui ritornare Miranda ma quale supporto morale? ma poi questa cosa che lei li accompagna quando partono come le viene? come le è venuta? grazie 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 a tutti grazie a tutti Grazie a tutti.